Musica Allora ci troviamo a Cosenza nella sede del Palazzo dell'Episcopio, ospiti dell'Arcivescovo Monsignor Salvatore Nunari, innanzitutto che saluto e ringrazio. Anch'io saluto e ringrazio. Allora lì è l'Arcivescovo della diocesi di Cosenza Bisignano. Dovendo presentare la sua diocesi, come ce la descriverebbe? La descrivo anche nella sua complessità. La diocesi di Cosenza Bisignano è la più vasta dal punto di vista territoriale, ma anche la più densamente popolata della Calabria. Come territorio è una delle, nel meridione, fra le prime, se non la più, come territorio. È una diocesi complessa anche geograficamente, perché va dal mare alla montagna. Quindi, dopo l'esperienza, la prima esperienza di Vescovo in Artilipinia, stavo in montagna, e la diocesi era più piccola, ovviamente più abbordabile, come si dice. Questa è una diocesi che, anche storicamente, negli anni Ottanta ha avuto un assetto diverso. Era una diocesi più piccola, è stata aggregata a Bisignano, e poi anche una parte della marina, cosiddetta marina, significata amantea, a Fiume Freddo, che apparteneva prima alla diocesi di Tropea. E il Vescovo arrivava qui, dovendo attraversare un'altra diocesi, quella di Nicastro, allora, oggi da Mezzia. E qualche volta, mi dicono, veniva con la navetta, dal porto di Tropea al porto di Fiume Freddo, in quella zona c'era uno portico, no, Ruzza Lucido. Pastoralmente, certo, una diocesi impegnativa. Non le nascondo che ho iniziato il mio biscopato qui, il mio servizio biscopale, con qualche grosso problema. che aveva abbassato un po' i toni dell'entusiasmo della prima ora, no? Nel caso del Papa Giovanni, questo grosso complesso e servizio che era nato come, nella mente di chi l'ha fondato, un sacerdote, come un luogo di carità che poi era finito, un luogo di accoglienza, in pratica di tutti gli ex manecomiabili, hanno chiuso questa struttura, abbiamo perso tutti gli immobili che appuntavano circa 42 miliardi, sono stato contento di averli persi, così ho liberato la diocesi da una presenza di cancro e di metastasi. Qualc'altro problemino, ma poi ci siamo, grazie a Dio, ripresi. Oggi c'è una pastorale che si sforza di essere pastorale missionaria, dico si sforza perché Papa Francesco è arrivato nel tempo anche giusto, ma passare da una pastorale di contenimento, di conservazione, a una pastorale missionaria comporta anche delle difficoltà perché non tutti noi del clero siamo neppurinari, si preparano a questo, uscire dal tempio e stare sulla strada, è l'invito che costantemente faccio alla mia chiesa. E in che modo si concretizza questa pastorale missionaria, questo essere missionari? Beh, in pratica si concretizza se non perdiamo tempo cercando di conservare il tutto. Tre punti, la memoria del passato, con gratitudine, vivere il presente con passione e prepararci al futuro con speranza. Concretamente è quello che è l'impegno che ho portato avanti a una visita pastorale, cioè non una visita burocratica quando sono i battezzati, perché a me non interessa molto quanta gente viene in chiesa, mi interessa di più come esce la gente che viene in chiesa, non so se mi spiego. e quindi ho avuto modo di visitare tutte le scuole, circa 62 scuole, anche l'università, e avere un colloquio molto bello con i giovani. Solo che devo essere sincero, questi giovani che mi hanno atteso, mi hanno cercato perché avevo dimenticato una scuola, quella alberghiera a Paola, mi hanno rincorso per l'estate, da noi perché non viene? Sono andato e sono stato bene perché tutto è finito con un bel pranzo preparato da loro, anzi gli ho detto venite a trovarmi ogni tanto che io accetterò il vostro invito di tornare da voi. Questi giovani che io ho incontrato, che hanno dimostrato anche un certo interesse, in più di una scuola, in più di una scuola, ho sentito questo ritornello, perché noi giovani siamo lontani dalla chiesa. E lei cosa le ha risposto? Non sapevo dargli una risposta, perché dovevo rispondere una altra risposta, perché la chiesa è lontana da voi. Perché la chiesa non riesce a coinvolgere, non riesce a chiamare, non riesce ad attirare ragazzi? Beh, è una domanda difficile, perché la chiesa? Perché gli uomini di chiesa siamo forse pochi innamorati dei nostri giovani, perché i giovani bisogna incontrarli, non giudicarli. Il problema grosso è che tante volte ci mettiamo in atteggiamento di giudizio, più che di incontro, di colloquio, di accettazione, della loro vita, del loro momento storico che stanno vivendo. Quando usciamo con quel discorso, ai tempi miei, anche se siamo giovani, se diventiamo subito vecchi, non ci sono i tempi nostri, c'è il tempo di Dio. E in questo tempo di Dio si inserisce anche questo contesto giovanile, che parla forse un altro linguaggio, che devo dire io che ho 75 anni, che continuo ad essere uomo della penna e della carta, computers, cose qui, insomma, purtroppo, anche in questo il Papa, e non solo l'attuale, anche il Belezzo XII, ha incoraggiato. Poi il giovane trova più comodo stare in un pub, peggio su un muretto, dove fa branco e non gruppo. E' tutto un problema serio. Sono del parere, però, che se noi li cerchiamo, i giovani si fanno trovare. Devo essere sincero. Quindi bisogna anche, come dire, trovare la giusta chiave per, diciamo, attirare i ragazzi. E quindi la comunicazione sociale, in questo caso, svolge un ruolo essenziale. Il giovane va trovato nei luoghi della sua quotidianità. E quando viene in chiesa è un fatto positivo. Ma anche ai gruppi che vengono, che pochi gruppi ho, ripeto sempre, guardate ragazzi, in chiesa si va, ma non si sta. Si sta nei luoghi della quotidianità, dove la vostra vita si svolge, dove dobbiamo essere questa capacità. Non solo dei preti, per esempio, dei giovani che partecipano ai nostri gruppi, far capire che sono loro i primi evangelizzatori del loro quotidianità. Vangelo gomito a gomito, sa? Bisogna raggiungere i giovani, questa è la passione alla giovanile, nei luoghi della loro quotidianità e fare proposte alte e percorsi possibili. Se io gli propongo il niente, la proposta deve essere alta, ma i percorsi quelli possibili, iniziali. È un problema che è collegato al problema giovanile con il problema della famiglia. oggi la famiglia credo che viva questa emergenza educativa, perché il giovane vive la sua esperienza anche quando è dentro, fuori. Povergliamoci con molta chiarezza, dove è il dialogo in famiglia? Nel tempo in cui ci sono tanti mezzi di comunicazione, il giovane non comunica più, parla con se stesso, si rapporta con uno parecchio. Ci sono proprio anche degli orari di lavoro che ci portano magari ad avere dei tempi diversi, genitori, figli. Senz'altro. Se lei va in una famiglia oggi anche nonostante le crisi economiche troverà tre o quattro televisori perché ognuno la sera vuole vedere. Allora ti trovi dinanzi al televisore e stai lì la famiglia ha difficoltà a educare, questo è un problema serio, è un problema serio ed è il problema più serio non poter fare un discorso in rete, scuola, famiglia, chiesa. A me ho dato sempre il sito di sentire parlare di agenzie educative, ma di luoghi educativi, di persone che educano. Il problema dell'emergenza è che vanno educati gli adulti, il problema sono più gli adulti che i giovani, ha una mentalità, certo, siamo in una società malata e quindi chi soffre di più la malattia di una società sono più giovani. E la cura per questi adulti? La cura è mettere dinanzi la responsabilità e creare una pastorale familiare e la chiesa può fare tanto perché le famiglie ancora ti rispondono e fare dei percorsi educativi e porci noi ministri ordinati, vescovi, parroci come compagni del loro viaggio sapere sopportare con loro le sconfitte ma sapere anche avere il coraggio di andare avanti. Da un punto di vista invece vocazionale qual è la situazione che si registra? Ma guardi a livello femminile siamo siamo a terra a terra proprio e qualche vocazione qualche vocazione claustrale l'ho seguita quando vedo arrivare e ho piacere tutte queste suore che vengono da lontano dalle Filippine dal Messico cioè stiamo riempiendo le nostre case prima andavamo noi in missione adesso vengono ora vuol dire che la risposta è poca o nulla a livello maschile no c'è io ho avuto in questi anni una bella ripresa del seminario non sono in tanti ma conta la qualità davvero in questo caso perché aver paura di non aver preti e aprire le porte a tutti io faccio sempre un discernimento mi costa dire dei no ma sono contento di alcune volte di dirlo cioè qualche volta si sceglie anche la via sacerdotale pensando al proprio romano che sa oggi siamo i più tranquilli perché il giorno stesso prende la commessa iniziamo nel sistema chi si laurea deve pensare poi trovare una valigetta mettere dentro il diploma la laurea di compiuto e partire ma non è questa la scelta quindi con un strano discernimento è una bella è un bel momento e io sono contento di avere dei giovani meravigliosi con una preparazione culturale umana che è molto importante la formazione umana anche nei seminari perché dove c'è l'uomo ci può essere anche il cristiano che cosa gli ha fatto dire di no rispetto ad alcune alcuni aspetti alcune storie di vocazione e sa innanzitutto avere innanzi uno convinto con una identità propria mi capisce ed anche con un interesse sì certamente per Gesù Cristo un interesse per gli ultimi per i poveri che non sia organizzato dentro in maniera borghese che portare dentro il seminario e poi nella vita del sacerdotale questa ricchezza non di di soldi ma di comodità di tutto lei è il presidente della conferenza episcopale Calabra lo scorso 17 luglio si è svolta una seduta straordinaria allora perché è stata convocata e quali linee direttive sono emerse da quella conferenza erano quel periodo era il tempo di processioni che di stato che si inchinavano di mafiosi che volevano portare la stato cioè era qualche problema poi si è esagerato mediaticamente si è esagerato molto si è creato un problema in quale fosse la mafia al centro delle nostre pietà popolari in maniera subito la si è sempre inserita io ho scritto qualche anno dietro una lettera agli uomini della mafia scrivo poi gli uomini della mafia e denunciavo questo aspetto a parte il male che la mafia fa dal punto di vista economico dal punto di vista educativo della coscienza ma soprattutto la loro subito la partecipazione a momenti religiosi quasi cercando nella chiesa un riconoscimento che dallo stato poteva avere nella società civile e allora ci siamo riuniti nei vescovi ci siamo sentiti un po' aggrediti anche da certa stampa e poi da qualche magistrato che ha dato fuori le righe del discorso e ci siamo detti di preparare una nota che abbiamo preparato ma stiamo discutendo molto testimoniare la verità del Vangelo non da pastorale sull'andrangheta però come si combattono in qualche maniera queste forme di deviazione che rappresentano che sono all'interno della pietà popolare un aspetto fondamentale però sono facili queste comunque sono possibili queste infiltrazioni allora come si sono infiltrazioni ma c'è anche questa mentalità non so se lei ha letto mai l'autobiografia di un mafioso in Calderola dove un un mafioso asserisce noi mafiosi siamo anche cristiani tant'è vero che il venerdì noi non uccidiamo nessuno per rispetto a Gesù che è morto di venerdì pensi e poi afferma io sono mafioso ma sono anche cattolico ho la Bibbia tante volte quando questi mafiosi sono stati trovati nelle loro caverne chiamiamoli così se ci sono d'altarini santi santini è una mentalità un poco e lo fanno perché una chiesa così poi alla fine anche se non fa documento che riconosce infatti ci accoglie e quindi ci riconosce e quindi la richiesta dei sacramenti dicevo si è esagerato noi stiamo cercando una purificazione da tempo perché i documenti contro la mafia negli ultimi tempi nel 1977 75 questo triste fenomeno è stato trattato dai vescovi del tempo la mafia viene chiamata una piovra che stende e chiaramente si dice voi con noi non avete no con noi col Vangelo non avete nulla a che fare perché il Vangelo è amore voi invece siete odio perversione cattiva uccisione omicidio quindi col Vangelo non vi confondete perché non è il vostro luogo né il vostro libro ispiratore certamente avete la Bibbia non la leggete male forse la interpretate male e la vivete contro il 6 e 7 ottobre però la conferenza Episcopale Calabra è tornata a riunirsi allora sul tavolo tutta una serie di questioni annose che riguardano la regione Calabria quali sono i temi che necessitano una stretta urgenza quelli che proprio vanno affrontati in maniera efficace e immediata e che cosa si sta facendo guardi parte la nota che è tornata il 6 e 8 ottobre e deve stare al centro ma anche la situazione politica amministrativa lì ancora siamo eravamo sotto elezione quindi ogni intervento poteva essere letta una parte o dall'altra o contro ma il problema è dinanzi a noi mi auguro però forse faccio malattilo io ho sentito già il nuovo presidente della regione gli ho detto come esco mi è interessato di incontrarlo per agitare i problemi più grossi sono tante le emergenze che se ne dica l'occupazione l'occupazione non va avanti qualcuno forse responsabilmente sa più di me ma un presidente del consiglio dice diminuitelo l'occupazione sono chiacchiere l'occupazione aumenta sempre di più in Calabria siamo combinati molto male e quindi c'è il problema anche di affrontare con serietà da parte del governo regionale ma non solo delle forze dell'ordine ma della società civile questo discorso della mafia perché dobbiamo parlarci con chiarezza molti commercianti falliscono o devono chiudere perché sono taglieggiati e questo è un fatto le industrie del note scappano perché c'è la tassa mafiosa c'è il pizzo c'è e quindi è un problema che si collega anche e poi perché in Calabria purtroppo nel tempo parlo degli anni 70 quando ci furono i fatti di Reggio è stata fatta una una programmazione non nel rispetto della natura stessa della terra di Calabria noi abbiamo tanti chilometri di coste abbiamo le montagne accanto alle coste e loro fanno la scelta della la industrializzazione della Calabria hanno danneggiato immense zone di di agricoltura buona quando noi pensiamo ai mandarini della della zona di Gioia e Tauro San Pertinando che erano benciatissimi in tutto il mondo allora si è fatto un porto meno male che si è fatto questo porto almeno resta quello ma i 10.000 posti di lavoro previsti dai signori politici del tempo che facevano pacchetti come il signor Colombo che era un uomo che si faceva la comunione la mattina forse poi non ragionava bene la sera fa un pacchetto dando al Calabria la possibilità di avere queste industrie chimiche ne è sorta una a Saline di Reggio Calabria un'altra talmeno si è aperta qui a La Mezzia ma pensi quella a Saline di Reggio Calabria se la va a vederla adesso è un ammasso di ruggine perché non è stata mai aperta primo perché si producevano mangiabili degli animali a cancerogene di Pensa e il ministro della sanità l'ha chiusa non hanno fatto altro c'è un ammasso di ruggine che è costata miliardi e miliardi dello Stato alla Mezzia hanno chiuso pure il senso di ruggine non si è fatto l'industria a Castrovilla le sono fallite non si è tenuto conto del territorio si è programmato cose che non esistono e quindi la Calabria era povera è diventata più povera quindi un'assenza di sviluppo sicuramente per una colpa di uno Stato che in realtà non c'è è assente ma possiamo dire che anche c'è una ma... è stato presente male presente esatto ma è una presenza sbagliata ma non c'è forse anche una responsabilità nel mondo cattolico che dovrebbe potrebbe impegnarsi di più da un punto di vista etico sociale per lo sviluppo per l'economia guardi non c'è più il partito dei cattolici meno male ma ci sono i cattolici impegnati in politica purtroppo quando si è in politica è una gabbia mi crede anche persone con delle intelligenze perché poi vale il problema del partito qualcosa in positivo si è mosso ultimamente però i nostri cattolici sono lì non ci sono più i cattolici che hanno fatto la costituzione parliamoci se la costituzione italiana è a quell'altezza è perché i comunisti cattolici socialisti del tempo e anche qualche laico illuminato hanno lavorato insieme l'articolo settimo della costituzione è passato con l'approvazione di Togliatti ma l'ha preparato il gruppo delle professorine che erano Dossetti Fampano e Lapira questo vi spiego quegli uomini non ci sono stati più non c'è stato più De Gasper non c'è stato quindi che non ci sia il partito dei cattolici mi sta bene i cattolici devono essere ovunque non ci deve essere la diaspora la diaspora politica dei cattolici così come ho spiegato nel 1995 il San Giovanni Paolo II a Palermo per il convegno delle chieste italiane certo ci vorrebbe la sentiamo questa assenza anche perché poi non si è uniti a scegliere persone per bene l'elezione ha visto l'assenzionismo ultimo dice con chiarezza che la gente è stanca mi fa passare il termine è nauseata di certi atteggiamenti politici questo è il discorso anche perché dal 1873 che si parla di questione meridionale di divario tra nord e sud di problematiche del sud di regioni del sud che non ce la fanno ma in realtà dall'ora ad oggi non è cambiato nulla sono stati fatti gli studi per esempio Gramsci sulla questione meridionale ha scritto bene ma non era meridionale però adesso in questi giorni stiamo assistendo alla conversione addirittura della lega devono pensare la religione pensi lasciateci lavorare in pace non soffrire in pace perché molte volte lasciateci no no io non voglio piangere soffrire io voglio lavorare lottare finché ne ho forza però uniti viribus unitis cioè quando si noi cattolici non dobbiamo essere uniti per essere forti noi cattolici dobbiamo essere uniti per essere credibili la credibilità sta nel affrontare i problemi con se ne dà ma finché c'è la brutta immagine del politico che ruba bisogna riscoprire cioè i cattolici devono uscire fuori dalle sagrestie fuori dal tempio anche per loro in chiesa si va ma non si sta andate sulle strade andate andate fuori dal tempio a costruire una civiltà nuova a proposito di politica che dà il peggio di sé voglio dire l'indagine di mafia capitale ci dà uno spaccato e l'Italia assolutamente aberrante e pazzesco soprattutto per l'aspetto che riguarda gli immigrati immigrati che fruttano più della droga e quindi si lucra in realtà su una situazione di disperazione per quello che riguarda la regione calabria la presenza degli immigrati come la possiamo raccontare insomma come si quantifica anche è una regione di passaggio o di stanziamento per molti di passaggio questi sono fratelli e sorelle immigrati non parlo solo di Rosarno ma un po' ovunque gli indiani nella zona ionica è sfruttata rubiamo la degnità questo mi ha fatto molta impressione non c'è ancora un programma che definisca bene le cose il caporolato esisterà sempre non bastano le forze dell'ordine per vincere bisogna sistemare meglio chi arriva in Italia il problema è anche culturale sono tutti cristiani qua non siamo riusciti con il sindaco a trovare il posto per mettere le tende perché la gente non le vuole e allora il politico del luogo comincia a fare funzione al consiglio comunale funzione al consiglio regionale sia di destra sia di sinistra è una realtà c'è italiani poi è che siamo siamo ospitali tutto quando quando non ci disturbano ma quando la presenza di qualcuno è di disturbo io non ci vorrebbero forse delle politiche anche migratorie un po' più coordinate perché in realtà l'Italia sembra un po' come dire lasciata a se stessa e ognuno cerca di risolvere l'emergenza che poi in realtà l'emergenza non è più perché la rampa d'usa a crotone tutti questi centri di accoglienza dove sembra che mettono delle bestie non degli uomini una cosa stravissima una politica sull'immigrazione certo ma è storia che si ripete quando i nostri calabresi andavano negli anni 30 a Torino anche fino agli anni 60 ho scritto si affitto la casa ma non i calabresi oggi posso capirlo perché la mafia è arrivata se sta radicando bene allora dice meglio non averli che averli però degli affari trovo uno spazio anche nelle persone che sembrano doppio petto per solo per bene va bene prima quando si parlava delle emergenze che vivono i calabresi e che si vive in modo particolare in tutte le diocesi e quindi anche nella diocesi di Cosenza Bisignano si parlava dell'assenza di lavoro questo quanto incide poi sul lavoro delle Caritas in Puglia c'è un fenomeno che poi è un fenomeno in realtà che si espande anche ad altre regioni in cui sono tanti gli italiani tanti pugliesi che si rivolgono alla Caritas perché non hanno più di che mangiare non hanno più una casa non sanno dove andare e quindi non sono più gli stranieri che si rivolgono alla Caritas tornando anche un po' alla questione immigrati qui invece in Calabria com'è la situazione? io parlo per la mia diocesi devo dirle che intanto ho creato nelle sette zone pastorali dei centri di ascolto con una somma segnata loro che venivano tutti qui non si leggeva più la Caritas io firmo in un mese credo sul milione sul centomila duecentomila per l'aiuto della bombola che riga la luce e la casa mi stanno togliendo fuori di ora ho aperto una casa accanto all'episcopia costruita adesso sono uno dei tre suori messicane un bravo figliore abbiamo cominciato intanto a usare le stanze essendoci suori solo per qualche donna in difficoltà questa con loro le docce per uomini e per donne e stiamo avviando anche la mensa è una tristezza c'è gente che ma non arriva non arriva più nessuna la settimana ma non finisce ancora prima per alcuni è un problema serio la povertà le sacche di povertà con questa crisi economica sono aumentate le sacche di povertà e assieme ai quartieri bene ci sono anche le casse dei poveri e il confronto quindi pensi tra i figlioli della famiglia del condominio che sta bene e i bambini i ragazzi quando hanno 12-13 anni è un problema e io una volta avevo quando ero parroco ho regalato delle cartelle che mi hanno dato per la scuola la mamma li portò a casa famiglia di 12 ragazzi figli ma li li portò indietro e dice no li portiamo meglio a mano perché i nostri compagni ce l'hanno firmata questa è una vecchia era fuori moda pensi è una realtà questi figlioli che arrivano con la firma sulla maglietta e questo è anche lo scandalo e forse anche questa situazione poi come dire crea ancora di più una credine nei confronti degli immigrati per la serie noi italiani non ce la facciamo perché lo Stato deve andare ad investire o a dare delle risorse agli stranieri non sono i Calabria anche fuori esatto è un discorso infatti italiano pensi a proposito ritornando al discorso dell'accoglienza nella zona chiamata stadio dove c'è il campo sportivo di Cosenzano sono state fatte le palazzine Mancini che era il sindaco del tempo aveva il problema qui vicino alla stazione tutti i zingari e li portò in queste famiglie in queste case cioè altro e metterle uno qua uno là li hanno messi insieme era stata una scelta forse era da fare lo sa che la scuola elementare il comprensorio della scuola che ha gli stati ha chiuso perché andavano i figli dei diciamo non mandarono più i figli italiani li portarono al centro a Cosenza dopo un anno sono ritornato dopo la vita pastorale per vedere di gridare la gente ma sono stati i vostri figli dice non vi disturbate perché anche i robbi sono andati e hanno chiuso la scuola veda uno per esempio una volta ho detto a una mamma signora guardi Versace è mio compagno perché se ti reggio come me siamo cresciuti assieme lui era più piccolo poi finì male quando il suo figli gli dice voglio la maglietta firmata lo porti e ne compri due non firmate con gli stessi soldi compro che ne andiamo a comprare due educa il suo figlio e dice adesso questa gliela portiamo al tuo compagno che non ce l'hai capito? come è andata la visita di Papa Francesco quando è venuto il giugno scorso a Cassano all'Oionio che cosa le è rimasto qual è l'immagine che cosa ha rappresentato quella quella visita del Papa guardi è stata una visita tanto a Cassano sì a Cassano e dico tutto dicendo a Cassano non per colpa sua per carità una visita del Papa in Calabria credo lo è coinvolge di più noi vescovi siamo arrivati la l'abbiamo salutato ed è stato un bene però ha detto delle parole forti dopo che se n'è andato siamo rimasti noi qui e lui è a Roma adesso l'ho visto a Roma ne ho parlato con lui il 23 anzi devo fare una lettera perché gli ho chiesto di riservi per tantissime cose bello fare i santi non abbiamo fatto i santi siamo stati a Roma il Beato Angelo del Santo siamo stati lì vuole che le dica la verità tutta intiera sì sono belle cose che non hanno poi ecco non incidono è tutto come prima ma non per colpa della Chiesa o del Papa o dei Vescovi è tutto come prima perché serve a smuovere per esempio sul fatto della mafia noi ci siamo riuniti il 17 luglio anche perché per rispondere a un discorso forte che ha scosso le coscienze anche di noi Vescovi quindi siamo grati al Papa ma poi nella notte alla mafia possiamo fare una bella nota che io sto preparando io i Vescovi se non c'è poi un lavoro serio in rete delle istituzioni tutto adesso un bel discorso una bella visita adesso una passione in più per noi cristiani noi Vescovi pure perché il fenomeno resta e ci sentiamo solo inadeguati possiamo dal punto di vista ecclesiale dal punto di vista civile perché la coscienza civile è molto importante sa perché la gente superi questo atteggiamento di chiusura io non vedo io non sento una questione quindi culturale come ancora una volta poi quando io dico sempre la mafia inizia quando il bambino fa il bambino e il ragazzo fa l'allocante perché un pizzico di mafia c'è in tutti noi quando c'è l'allocante sa un po' abbiamo cercato di farlo in questa intervista ma lei lo ha fatto molto bene all'interno di un libro raccontando la sua calabria Don Nunari racconta la sua calabria ho scoperto che infatti molti la chiamano Don Nunari che cosa non sono stato mai perché ho fatto 19 anni il vice parroco a Reggio fa un anno io l'ho fatto 19 anni perché avevo un vecchietto lì bello mio di parroco non ho voluto mai dispiacere che cosa racconta e qual è il suo auspicio in conclusione per la sua terra per la calabria ma guardi è stato uno spaccato di storie che ho vissuto il mio intendimento era un altro scrivere la sua mia esperienza di sacerdote di vesco e basta questo giornalista veniva mi interrogava poi ha tirato fuori tutta la storia che riguarda anche i momenti duri per esempio la rivolta di Reggio lì sono stato impietoso con i politici dicendo la verità un po' la partecipazione contro la mafia esaltando delle figure nobili come il sindaco Falco Vatate di cui tutti parlano e io sono stato amico fino alla fine lui era un comunista convinto mi rimase sempre di quell'idea però si è avvicinato molto al cristianesimo anzi ho scritto anche della mia esperienza quando i mafiosi mi hanno fermato questi discorsi li faccio in chiesa lì li deve fare perché lei è prete ma non venga più in pubblico a dire che noi siamo forti perché se voi siete deboli avevano ucciso un giovane dalla popolizia urbana ma che era c'era stato un corteo io ho parlato alla gente dicendo che sono più deboli di quello che pensate si fanno forti perché siamo deboli noi questo è il problema se non fossimo più forti con loro il mafioso basta conoscere poi fanno gli efferati delitti ma dentro non hanno niente dico culturalmente anche di forza interiore e ho scritto anche delle prospettive per questa Calabria che deve aprirsi al nuovo non è che siamo che è terra vecchia è terra giovane perché ancora noi abbiamo i giovani ma sono le strutture che si fanno vivere un po' da gente che si arrancia diceva Papini in Italia il paese tutti si arranciano e la Calabria non ne parliamo e allora tutti si arranciano a fare qualcosa anche io mi sono arranciato a fare le mie scuole grazie grazie mille prego